Ho chiesto al signor Carelli come è nata l'idea di un carrello per salire le scale. Per non fare fatica bisogna usare la testa, mi ha risposto. L'idea gli è venuta mentre osservava un momo che faceva molta fatica a trasportare con un carrello delle pesanti scatole dal furgone ai gradini di ingresso degli uffici. Il carrello che ha brevettato si chiama End Truck. È meccanico così lo sanno usare tutti ed è anche economico. Per salire le scale con il carrello End Truck si impugna la maniglia appositamente studiata che mette in moto un meccanismo e il carrello sale con tutto il suo carico sul gradino superiore. Il signor Carelli non è nuova invenzione in questo campo. D'altro canto lui dice che chiamarsi Carelli significa avere i carrelli nel proprio DNA.